Penso che abbiamo fatto una buona partita, anche se siamo fuori dalla semifinale, quindi il quinto posto è un obiettivo relativo perché il nostro obiettivo per il proprio sarà la salvezza e quindi penso che sia stata una buona prova in vista dei play-out che poi dovremo affrontare Sassar nuovamente. Sicuramente siamo arrivate senza tantissime nostre compagnie, però in ogni male c'è un bene, quindi le piccoline hanno avuto, piccoline tra virgolette, magari hanno avuto meno posto nel campionato e adesso sono state chiamate in campo e dimostrano abbastanza bene, oggi soprattutto mi sono piaciute tante partendo dal portiere, alla fine secondo tempo erano tutte le più piccole in campo e hanno dimostrato che ci sono.